buongiorno a proposito dello stadio volevo dare il mio contributo anche in regione tante volte non fosse chiaro il progetto stadio diciamo clinica dato che ormai sono già passati un po di tempo da quando l'abbiamo presentato tutti i miei consulenti sono a completa disposizione della regione per spiegare in maniera dettagliata leggi le gettine perché per come non mi prendete per cattivo va bene perché è come dire per velocizzare per rendere tutto più tranquillo per permettere diciamo un giorno a Putin di poterlo bombardare lo stadio di Terni finito va beh è chiaro quello che io penso di Putin arrivederci a tutti